dunque proprio stavo guardando prima a proposito di scuffe questo portiere giovanissimo dicono poi sai sono sempre le voci di mercato che la rotta sarebbe la juventus sarebbe interessata a acquistarlo lasciandolo però almeno ancora un paio d'anni a udine la cosa la qualcosa potrebbe piacere all'udinese tutto sommato perché si prende i soldi e nello stesso tempo comunque ha un portiere ancora per due anni assicurato anche perché Gigi Buffon ha 36 anni più di tanto non può conciamare oppure oppure cambiare scusami cambiare le cose in corsa loro si sono affidati sulle ali alle ali che sta facendo esperienza in serie minori non è lanciano sì e dare le ali che è un ottimo portiere attenzione giovane di prospettiva all'udinese e portare qua subito scuffete il quale alla scuola di Buffon potrebbe sicuramente imparare molto di più anche questa è un'alternativa assolutamente sì due anni per come sta giocando direi di sì è un periodo ottimo adesso è in forma sì io mi auguro infatti all'inizio del primo tempo ho preso quella palla e non era mica facile no 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 lui è andato solo cioè l'hanno proprio fatto fare 20 metri da solo e mi sono spaventato perché si andavano solo 1 a 0 eh si erano cavoli a mare eh sì esatto all'inizio